Movida, il dado, è tratto due fine settimana per Prefetture e Comune di Vicenza per testare l'accesso a numero chiuso e i varchi in contrappescherie vecchie nel tentativo di porre un freno ad un fenomeno fatto di bevute senza limite scazzattate tra giovani e giovanissimi con tutto quello che ne consegue. Una volta trascorso questo tempo cercheremo di capire quali sono stati i risultati e quindi valutare se possa essere riproposto. A ventori contingentati sfruttando l'ordinanza che già col Covid ha definito in base ai metri quadri a disposizione il numero di persone che possono accedere al locale. Ma come funzionerà l'accesso e chi controllerà? Ci saranno delle forme di comunicazione tra la gestione del singolo locale e la gestione dei cancelli. Per cui gli steward saranno in grado di poter conoscere in tempo reale quanti spazi ancora ci sono all'interno dei locali. Loro potranno assumere anche un ruolo di sensori per andare materialmente a rendersi conto. Una soluzione anche sperimentale è questa del numero chiuso che divide i vicentini. Vivendo comunque in centro storico limitare la partecipazione alle persone potrebbe essere di aiuto a rendere la situazione un po' più ordinata. Beh, per due fine settimana non penso che cambi molto la situazione dopo, potrebbe ricapitare. Non mi sembra, soprattutto questo caldo qua, ci sia sto grano a flusso la sera. Penso che il problema sia dopo, verso mezzanotte, però adesso io vedo che chiudo alle 10, iniziano forse a uscire alle 10, non vedo adesso, magari a settembre, ottobre. Movida che potrebbe prendere altre strade, complice caldo e riapertura delle discoteche, ma intanto serviva una risposta all'appello dei residenti. Io lo sapete, sin dall'inizio non sono mai stato per la militarizzazione della città, insomma, è giusto che la città viva in modo ordinario, ordinato ma anche ordinario. Vediamo comunque in questo momento se questo strumento può riuscire a ridurre quei disagi. Io lo sapete, è ragazzo intendo che ci sono ovavanti come quello sillice di essere barato, non vedo. Perchè ovviamente sta in questo momento nel senso scriso. Grazie a tutti